Ciao, io sono Antonio e anche oggi, come ogni martedì, recensione di un nuovo prodotto a tema Harry Potter. Prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling, utilizzando il codice sconto 7Potter, potrete acquistare tantissime magliette, felpe e altri prodotti a tema potteriano e nerd, con uno sconto del 15% utilizzando il mio codice 7Potter, utilizzabile tutte le volte che vorrete da qui all'eternità. Ragazzi, detto questo, passiamo al prodotto di oggi, che è un prodotto che non vedevo l'ora di portare sul canale e di mostrarvi, perché secondo me è l'affare della vita. Perché, ragazzi, si tratta di questo libro, questo finto libro, che si chiama Harry Potter The Postcard Collection 100 Images. Ragazzi, si tratta di un libro in cartone, che all'interno contiene 100 cartoline ufficiali di Harry Potter, tratte da tutti e otto i film. Io vi dico che questo volume vale il prezzo che costa, quindi circa 15 euro, perché ogni cartolina contenuta all'interno vi viene a costare circa 15 centesimi, 14 centesimi, dipende dal prezzo del momento del prodotto. Ma, ragazzi, una cartolina ufficiale di Harry Potter allo studio tour di Londra o al binario 9 e 3 quarti, o comunque in un negozio ufficiale di Harry Potter, costa dai 70 centesimi di pound fino a una sterlina, fino a un pound. Quindi andiamo da circa 1 euro, 1 euro e 20 a cartolina. Io, infatti, all'epoca, allo studio tour non ne acquistai neanche una. In questo caso, con circa 14-15 euro, ve ne portate ben 100 a casa dentro un cofanetto molto molto carino, che è questo qui, con i colori di grifondoro. E, ragazzi, è edito da Insights Edizioni, lo trovate su Amazon e, naturalmente, ve lo linkerò sotto in info box. Ed è già realizzato benissimo, soltanto vedendolo così dall'esterno. Perché qui, nella parte dove dovrebbero esserci le pagine, troviamo tutti i simboli dei vari incantesimi in controluce, che spero si riescano a vedere bene anche dalla videocamera. E poi, molto bella anche la copertina scelta con questa immagine dell'Espresso per Hogwarts. Ma adesso vi direi di cambiare inquadratura e di andare a sfogliare una per una e commentare le nostre 100 cartoline. Ed ecco qui il nostro cofanetto in tutto il suo splendore, molto molto bello e ben realizzato, come vi dicevo. E qui troviamo la parte dove dovrebbero esserci le pagine, con tutti gli incantesimi qui traslucidi. Davvero molto ben realizzati, mi piace tantissimo. Ma bando alle ciance andiamo ad aprire subito il cofanetto ed ecco che al suo interno troviamo la locandina di Harry Potter e la pietra filosofale. Perché le cartoline sono inserite all'interno in ordine cronologico. Quindi andiamo dalla pietra filosofale fino ai doni della morte parte 2. Ma adesso tiriamole fuori dal box e le andiamo a sfogliare singolarmente. Ecco fatto, direi che adesso possiamo tranquillamente procedere con la seconda che è sempre tratta dal primo film. E troviamo la scena dove Albus Silente lascia il piccolo Harry davanti a Private Drive numero 4. Io vi faccio vedere anche il retro della cartolina che è a tutti gli effetti una cartolina che volendo può essere utilizzata per spedirla, ma io non lo farò assolutamente. Ma continuiamo, ecco che abbiamo Harry nella famosa scena con le lettere che arrivano nel salotto di Zio Vernon. Abbiamo Harry che mostra la cicatrice a Ron e poi quest'altra immagine iconica di Hogwarts al primo anno raggiunta con le barchette dagli studenti. E poi Hermione col braccio in aria, molto molto bella anche questa. Harry alla prima lezione di volo dove fa lezione con Oliver Baston, quindi la prima lezione di Quidditch a dire il vero. E comunque ci tengo a sottolineare di come sia altissima la qualità della stampa delle cartoline. Guardate quanto è bella e nitida questa immagine, questa foto. Ed ecco che poi troviamo Harry con Edivige sul braccio. Troviamo anche questa qui che è la foto finale, l'immagine finale della partita di scacchi del primo anno. È la cerimonia di assegnazione della Coppa delle Case. Questa è proprio la scena finale del primo film. Molto molto bella. Poi si passa a Harry Potter e la camera dei segreti. Come poteva mancare il nostro Dobby che schiocca le sue dita. Troviamo anche la Ford Anglia inseguita dall'espresso di Hogwarts. O comunque viceversa la Ford che insegue l'espresso per Hogwarts. Molto molto bella, molto ben elaborata. Questa immagine sembra quasi un quadro. Ecco i fornetti della Cornovaglia con Neville. Poi la scena delle vipere del Serpensortia. Molto molto bella anche questa. Sono tutte immagini iconiche. Questa qui super super bella. Quella di Hermione che prepara la pozione polisucco. Harry che sfoglia i libri proibiti nella biblioteca. Ecco qui Ron felicissimo. E davvero ragazzi sono molto molto belle. Le vedremo tutte. Qui troviamo Aragog con la Ford Anglia. Troviamo la camera dei segreti con il giovane Tom Riddle. E Ginny sul pavimento. Il basilisco nella scena finale. E poi il nostro primo silente. E passiamo a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Il mio film preferito in assoluto. In questo caso non poteva mancare il nottetempo. Iconico in questo film. Questo qui anche è molto molto bella. Questa cartolina si potrebbe anche incorniciare con Sirius Black in versione Azkaban. Troviamo la scena delle gelatine tutti i gusti più uno. Fiero Becco. E poi ancora la lezione con Lupin. Quella del molliccio. Famosissima anche questa. Ripresa anche nell'ultimo film di Animali Fantastici. La scena del ponte sempre con Lupin. La scena bellissima del pugno di Ermione. E poi ecco che passiamo alla parte finale del film con Piton. Qui troviamo anche Ermione con Harry. Nella scena del lupo Mannaro. E poi ecco qui che andiamo ancora avanti con l'Expetto Patronum. E poi passiamo al Calice di Fuoco. Tutte scene per ogni film ben selezionate. Se ne sarebbero potute prendere tante, tantissime altre. Ma ragazzi naturalmente 100 cartoline totali per 8 film sono a malapena più di 10 per ogni film. Bellissima questa della McGranit. Mi piace davvero tantissimo. Qui abbiamo la prova dei Draghi. E poi Rita Skeeter. Sono tutte foto in altissima definizione ragazzi. Davvero molto molto belle. Ne vale assolutamente la pena. Questa qui fortissima con l'abito del ballo del ceppo. Ne troviamo anche altre. E poi ecco la prima cartolina dove vediamo Lord Voldemort. Per poi passare a Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Proviamo un Sirius Black ripulito. L'Espresso di Hogwarts che è quello che vediamo anche nella copertina del cofanetto. Ed ecco che arriva anche Luna Lovegood tra i protagonisti delle pellicole. con il Testral. La Umbridge immancabile con i suoi gattini. La Koeman. Quindi tutti noi professori che abbiamo scoperto in questo film. E poi abbiamo anche la stanza delle necessità. Cerco di andare veloce perché ragazzi sono davvero tantissime queste foto. Qui abbiamo i gemelli Weasley con la valigia e le due scatoline. Questa è la classica posa dei Funko Pop. Che io sinceramente non ricordo di aver visto nel film. Però finalmente ecco da dov'è che hanno tirato fuori quei Funko Pop. Qui abbiamo tutto l'esercito di Silente al completo. Il Professor Piton. Bellissima questa cartolina. E poi la Umbridge che fugge dalla Sala Grande a causa di Fred e George. Bella Trix. Molto molto bella anche questa cartolina. E poi ancora Voldemort. Qui abbiamo il combattimento al Ministero. Harry e Luna che si tengono per mano. E passiamo a Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Qui la cosa cominciava a diventare più cupa. Troviamo già i gemelli Weasley all'interno del loro negozio. Luna con gli spettrocoli e una copia del cavillo. Anche questa immagine ormai iconica. Poi troviamo Ron che fa parte della squadra di Quidditch. La visita di Silente al piccolo Tom Riddle. Il Cappello da Leone di Luna. Il Professor Lumacorno. Nuovo ingresso nel cast. E poi troviamo anche Draco che è già più cresciuto. E che trama contro Silente. E poi ecco qui altre scene sempre tratte da questo film. Qui troviamo Ron. E poi qui ancora troviamo Draco che armeggia con l'armadio svanitore. Il Pensatoio. Diverse scene ragazzi. Davvero tutte selezionate con molta molta cura. E poi arriviamo ai Doni della Morte parte 1. Anche questa immagine tratta dalla Locandina. Ed ecco che abbiamo Piton. I sette Potter. Bellissima questa cartolina. Anche questa con Harry e Hagrid nel sidecar. Il trio molto provato dagli anni. E poi ecco qui le varie scene tratte dal Grimwood Place. Troviamo Creature. Troviamo Hermione nei boschi. Hermione e Harry. Il loro rapporto in questo film è molto molto importante. Poi Ron con la spada di Grifondoro in mano. Sembra un po' un boscaiolo. Un montanaro. Sembra a dire il vero il cugino scemo di Heidi. Però solo in questa foto e non in tutto il film. Poi qui ecco che abbiamo la famiglia Malfoy, Voldemort. E passiamo alla parte finale che è quella dedicata a Harry Potter e i Doni della Morte parte 2. Dove troviamo la tomba del piccolo Dobby. E poi ancora il nostro trio con Neville. Qui troviamo la famosissima scena di Harry che si rivela all'interno delle mura di Hogwarts. E poi questa che è una delle mie scene preferite di tutta la saga dove troviamo la Megranit che dà vita alle statue di Hogwarts per difendere le mura del castello. E poi Voldemort ormai nei pressi di Hogwarts. Qui l'incantesimo di protezione al castello. E poi ecco qui il ricordo del piccolo Python con la piccola Lily. Ed ecco qui che arriviamo alla fine della storia con le macerie di Hogwarts, Neville che uccide Nagini, Molly che uccide Bellatrix. E finiamo con Harry che si scontra con Voldemort e lo manda definitivamente all'altro mondo. E rieccoci qui ragazzi. Cosa altro aggiungere? Direi che le cartoline parlano da sole, sono davvero di altissima qualità. Mi piacciono davvero tutte, sono molto molto belle. È una gran bella collezione soprattutto perché era chiusa dentro questo cofanetto. Il prezzo ripeto secondo me è adeguato, non è esagerato. È un prodotto che vi consiglio davvero a occhi chiusi di acquistare. E sono molto molto contento di essere riuscito a portarlo qui sul canale, di mostrarvelo e di consigliarvelo. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto tanto quanto è piaciuto a me. Se lo conoscevate, se l'avete già acquistato. Sono davvero molto molto curioso di sapere anche la vostra opinione. Naturalmente per qualsiasi informazione ragazzi liberi di contattarmi sia nei commenti che su Instagram ad esempio. Mi trovate facilmente con Antonio.seria. E ragazzi, detto questo, io direi che è giunto il momento di salutarci e di rivederci presto con tantissime altre novità. Quindi ci vediamo presto. Ciao!